Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura con Slaps and Beans, Bud Spencer e Terence Hill ma iniziamo subito io andrò avanti abbastanza velocemente con i sottotitoli perché lo scopo di questo video è più che altro completare il gioco e fornire la soluzione completa quindi molto spesso andrò velocemente sui sottotitoli andiamo avanti questi mi sa che vogliono mazzate prevedo una super rissa ecco vabbè all'inizio è così un pochino lentuccio poi diventa super pazzo mini giochi, frenesia all'inizio ci sono un po' questi dialoghi però poi vi garantisco che il gioco è veramente bello ecco col pugno in testa ci siamo mi dispiace per la tua cena, eh sì la tua cena arriviamo al villaggio, affro io, dai partiamo per Stoneville, dai no, non ho sonno, ho fame dice giustamente il caro Bud Spencer va bene, questo gioco è tutto in grafica pixel art nonostante sia comunque abbastanza recente è stato fatto così probabilmente sarà molto apprezzato da chi ha fatto i giochi dell'epoca come Maniac Mansion, Indiana Jones, Monkey Island in quello stile sicuro è un tipo di gioco diverso però la grafica è in stile pixel art ovviamente è una grafica molto più dettagliata però rispetto al passato comunque è veramente bello ma continuiamo continuiamo con la prima fase ok, siamo arrivati c'è questo grassone non sposerò mai quel viscido insomma c'è questo grassone che vuole sposare quella donzella ma arrivano in soccorso Bud Spencer e Terence Hill per una bella raffica di schiaffi ecco, ora il grassone l'abbiamo fatto fuori subito ma poi più avanti ci sono parecchi grassoni che sono abbastanza fastidiosi una bella spallata è quella che ci vuole bisogna usare qualche combo così da essere più efficaci andiamo avanti sfonda pure i barini le birre ci fanno recuperare l'energia in realtà poi bisogna stare attenti sia alla vita sia all'energia perché la vita con la vita ovviamente si muore se si consuma mentre l'energia ci impedisce poi di fare delle mosse perché finisce l'energia non può più far niente quindi bisogna comunque vedere tutte e due le barre infatti se si fanno le spallate o il doppio schiaffo consuma molto rapidamente l'energia bisogna stare attenti soprattutto quando c'è una bella polla però c'è anche Terence Hill che con la sua raffica di schiaffi è molto efficace e ci beviamo la birra e gliela tiriamo pure in testa l'altro la birra è per Terence dai proseguiamo ok c'è questo ponte che è rotto il ponte è crollato bisogna trovare una soluzione per saltare poi se non arriva sulle travi serve un barile mettiamo dove c'è indicato e il caro Terence Hill può andare dall'altro lato crolla tutto e quindi la strada è libera proseguiamo let's go possiamo proseguire un doppio schiaffo incide e anche la spallata bisogna fare un po' di combo così si riesce a far bene anche gli oggetti incidono benissimo benissimo qui c'è un bel saloon che si chiama jumbo guarda il saloon la mucca eh pure le musichette sono pazzesche secondo me non disturbare sto giocando ma si andiamo direttamente al bancone dammi del cibo ma certo cosa desidero ordinare ma sei soldo ho ordinato del cibo ecco ora va a finire la vista e vai di vista con sedie che volano pugni schiaffi possono mangiare le sedie è mega macello eh la spallata incide no l'ho lanciata a vuoto ecco si mette la ragazza a urlare andiamo sopra andiamo 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 madonna che mega spallata va a spezzare una bestia ok ci siamo possiamo proseguire ok ecco questo è il primo giochino con le pistole bisogna sparare al momento giusto abbastanza facile in questo momento poi diventerà un po' più complicato ok benissimo ovviamente si hanno colpi limitati ma sono infatti benissimo la ragazza è salva il mio nome è nessuno no il suo nome è mentecatto va bene andiamo avanti andiamo avanti tanto lo scopo è colpa andare verso la fine del gioco e capire come si finisce eh ci sono altri nemici spallate spettacolo passo a prendere la ricorsa con R2 e poi fare un bel quadrato e si fa un bello strike stile bullying fantastico ovviamente bisogna avere energia però se no non la fa ok andiamo giù fai fai d'altro andiamo giù fai iniziamo a prendere una sedia così c'è la doccia così c'è la doccia la bella padella di pagioni oh oh c'è un bel mucchione ok messicani che cazzo di messicane vabbè stupendo gioco di pazzi altri nemici persistono ma fa bella spallata un bel pugno in testo e ci siamo doppio schiaffo spettacolo sono ancora lì ci siamo spallata vamo non ancora c'è un bel nemico eh la spallata è devastante devastante si può anche parlare con il tondo però in questo momento non è determinante benissimo ok c'è un altro minigioco delle pistole leggermente più complesso adesso vediamo un po' andiamo avanti rapidamente quei sottotitoli vediamo un po' uno due tre e quattro vamo ci siamo ok freno freno siamo a stare molto attenti a a queste cose che ci lanciano perché sennò non riusciamo ad avvicinarci al treno ok benissimo ci è andata bene ok ce l'abbiamo fatta perfetto qui ci sono queste sbarre basta schiacciare il tondo e ripulisce l'aria vabbè ora non c'erano nemici non l'ha fatto vedere però molto utile ecco arrivano le barre in realtà qua c'è solo un nemico e viene ripulito ottimo continuiamo una bella spallata mega calcio di tene vai secondo vamo tondo conno e via un nemico in testa devastante tondo danger si perché ho calcio giù una bella paterra di fagioli sfascia tutto si è una birretta per tene andiamo avanti anzi prendiamoci lo stampa la sedia aspettate è in pieno stile salagiochi questo gioco è super divertimento picchiadure a scorrimento cose pazze minigiochi pazzie musichette folli si possono prendere oggetti si può fare di tutto pixelata la grande benissimo continuiamo sul treno no sembrava sul tetto ma in realtà è un binario più basso ok facciamo quel giochino sparatoria no spaglato perché i colpi sono limitati ok altri due l'ultimo e anche i secondi scorrono se magari si spiccia mi dice che lo devo rifare sono troppo lento vabbè dai in realtà è facile sono stato io lento ecco un altro si è molto più facile di quello che è sempre insomma ok continuiamo ah ecco entriamo di nuovo dentro qui c'è un altro vagone anche le stecche da biliardo ci sono che si possono usare che Grazie a tutti. Ok, qua c'è il vagone ristorante, proseguiamo il combattimento, mi sa che è una bella rincotta, non ho fatto proprio strife, ora si. Il pirrozza. Strike, è uscito troppo da strike, forse non si vede dalla registrazione ma è uscito, spettacolo. Ok, è finita, sceriffo. Ah, questo è un boss, ok, benissimo. Ci lanciano i ramiti e noi gliela rilanciamo. No, no. Qua che sparare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci lancia qui. E l'abbiamo ammazzato subito. Ah, ok, era tutto un set. Era tutto un set. E altro livello completato. Andiamo avanti. Studios. Musichette troppo belle. Andiamo rapidi sui sottotitoli, per non annoiarci. Questo film sarà un successo, decisamente. Schiaffi e fagioli. Slap e misto. Ecco. Altrimenti. Altrimenti ci arrabbiamo. Eh, iniziano ad esserci bestioni in giro. Pian piano diventa un po' più complessa la cosa. Già questo è un po' su resistente, si vede con bestioni. Però noi sfondiamo tutto. Fermate quei due. Ah, se ne sto scappando. Ah, era un camion. E finisce sempre a vista. Ah. Fuggiamo, fuggiamo. Ok, dobbiamo fare una roba. E adesso sono altri nemici. Ok, dobbiamo fare una roba. Ci voleva la spallata. Tire, strike, bullying. Previamoci una birra rossa. Ok. Ok. Ecco. Beh, andiamo rapidi, rapidi, rapidi sui sottotitoli. E altro livello completato. Birra e salsicce. Vamos. Quarto livello. Lascia fare a me. Eh, qua sono due bestioni. Solo i piloti possono entrare. Ok. Forse devo tornare indietro. E già so come andrà a finire. Ecco. Stai pensando quello che sto pensando io? Sì. Non potete stare qui. Io dico di sì. Ecco. Ora siamo noi i piloti. Alla fine non erano così antipatici. Ci hanno prestato le auto. Ultrafusi. Ah, in pratica devono fare una gara per decidere chi deve guidare. Perché vogliono guidare entrambi. Ok, ce la giochiamo in un modo o nell'altro. Giochiamocela a birra e salsicce. Chi vince, guida. Ecco. Qua dovrebbe esserci il chioschetto birra e salsicce. Primi tasti indicati al momento giusto per mangiare. Bevi la birra per diminuire la velocità. Benissimo. E ci divertiamo. Man mano aumenta la velocità e solo bevendo la birra possiamo ecco, sbagliato, possiamo diminuirla. Siamo stare attenti a fare meno errori possibili sennò poi diventa difficile. Io posso già bere la birra però se posso continuare incasso punti. Quando diventa troppo veloce bisogna per forza bere la birra sennò si perde. E ora sto andando forte. Sì. Però dai bere la birra. Ok, schiacciamo rapido, rapido. Dai siamo già a 55, 56, 57, 58. Sto andando bene. Però ora va più lento. 6, 57, 58. Siamo già a 60. Musichetta ultra fusa. Dai, 63, 64. Lui ha fatto degli errori, ottimo Un minuto al termine Stiamo velocizzando Siamo a 70, molto bene Acceleriamo 78 E direi che sto sbancando tutto Ragazzo un casco di banane E' livello completato Andiamo verso il quinto La gara E' bad Che ha finito la gara e guida Ready? 3, 2, 1 Go! Ecco, ho già fatto cavolate Non mi chiedete perché sono battito così Che non lo so nemmeno io Eh ma credo che la gara sia compromessa Anzi no Che sono? Tenta un recupero miracoloso Sono nuovo Ottavo E levati Sono ancora ottavo Settimo, no ottavo Settimo Settimo Sesto No 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 Settimo Sono quinto Sono quinto Dai dai Terzo, terzo Secondo Eh Sempre secondo Terzo Secondo Attenzione Primo Un recupero clamoroso Qua sta sotto al ponte Sì non sembrava Sono secondo Eh ma sono terzo Ho fatto una fesseria Final last Eh ma basta fesseria Devo cercare di farlo bene Sto giro Sono Secondo Primo 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 Basta Errori Posso dire Una Sporciatoia Sì sicuramente No vabbè Che sta succedendo Mi sono cappottato E vabbè Ora Incredibile Che sta A portare Vabbè Devo Riparla Eh vabbè Ha girato così Pazienza Tenta Tenta Un recupero Impossibile Ottavo Settimo Primo Trimbo Terzo 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 Di nuovo Secondo Terzo 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 Primo Di nuovo incredibile sul filo di lana primo clamoroso un recupero sensazionale spettacolo una gara un po' pazza strana sono partito male mi sono cappottato però fino alla fine era facile, si poteva fare lo stesso Luna Park Race primi Bud Spencer e Terencey andiamo avanti con sti sottotitoli ovviamente poi voi leggeteveli con calma ci mancherebbe altro anche per non annoiare a favore una super rissa rissa post gara ci sta dai è una bia sozza è una massa può essere utile e ora c'è un po' di grassone in più e si fa più complicare ok ok spaccia tutto proseguiamo proseguiamo stiamo qua dentro per per un bel già basta guardate 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 Grazie a tutti. 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 E' un altro boss. Ok, si bisogna andare qui così arriva quel rasso che lo stordisce. Ok, bisogna recuperare il rasso e metterlo qui. Ok, piano piano piano. No, ok, abbiamo giocato male, abbiamo giocato male. Rifacciamo questo boss. No, no, non è vicino. No, 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 non è vero. No, no, non è vero. No, non è vero. ecco io lo posso lanciare benissimo e abbiamo toccato una cava al po' di lì si prende il razzo attenzione mettiamo qua il razzo lanciamolo benissimo piano piano ok adesso proprio l'ho manciato via ottimo oh yeah soltanto ammaschiamo un po' di di gente vai dammi il razzo no non stava ma recuperammo ok stiamo andando bene vediamo fa che birra mi serve il razzo stava sopra ma deve recuperare tenex attenzione ragazzo grazie dai tenex portami sto razzo 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 eh vai siamo quasi a metà tenex dai ragazzo dai ragazzo ora però si muove bisogna aspettare se non si rimette in posizione voglio avacciare ok metà piena ora direi dai tenex razzo stava sopra stava sopra no non l'ha preso no non l'ha preso non lo prende ok lo prendo io perfetto allora io andrei ecco un nano livello completabile e andiamo avanti andiamo avanti con il livello successivo qui siamo in spiaggia e dove siamo a Miami Beach ha 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 a Miami Beach No, non si può distruggere questa manca. Proseguiamo. Ok, dobbiamo salire su. Ok, siamo sui tetti. Tanti birilli. Le pelle spallate e sfondate tutte. No, andiamo. Prendiamo sta bella padella. E niente, vabbè. Don Matteo passa, non c'entra niente. Ultrafusi. Don Matteo a Miami, poi. Gioco passa. Perfetto, proseguiamo. C'è un camion. Il camion di prima che era fuggito. Ah, ok, entriamo nel supermercato. È nostro, smammate. Ah sì, il supermercato è vostro. Lo faccio vedere io. Avanti i sottotitoli. Bello. Ho, ho. Bellissimo, vuoi buttare giù il barattolo. vamos, continuiamo la guara di frutta, la guara di frutta ci sta ecco benissimo vamos continuiamo la guara di frutta possiamo continuare c'è l'acqua si un bello strike, era quello che ci voleva c'è l'acqua c'è l'acqua c'è l'acqua è una bella spallata quella che ci risolve sempre tutti finiti si ho fatto una frattura E guarda sotto Ah, lancia i soldi Fatto una milioni 606 milioni Eh, ma finiranno i soldi, eh Ma diventano Diventano nemici E poi è tutto a spallare Ecco, si sono licenziati Non fatemi del male Ecco, uno schiaffone ci stava Il livello completato Autostrada Autostrada Un riposo Orm formerly Unipers Unipers Un Order Unipers Perché Unipers Unipers Unimpers Unipers Eccolo, eccolo, l'abbiamo raggiunto, ma ci ha incartato, ci ha incartato bene bene, bisogna rimanere incollati, questa è la cosa importante, dai, 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 siamo oltre metà, si può, si può, ma stare attenti ora agli ostacoli, problematiche, questo è quello che dobbiamo conservare per il momento giusto, ok, ci siamo, l'ultimo pezzo è un po' più complicato, ok, no, c'è una macchina super lenta, aiaa, turbo, 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 occhio, occhio, che se arriva alla fine, eh, bisogna stare molto a te, questo è il momento chiave, non bisogna farlo arrivare alla fine, sennò perdiamo, ok, abbiamo evitato anche questo ostacolo, bene, 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 siamo riusciti a rimanere incollati, ottimo, ottimo, dai, ok, a a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 Ecco gli altri. bene. Grazie a tutti. l'ultimo. 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 E' un po'. E' un po'. E' un po'. Benissimo, benissimo Dobbiamo far più l'anima Ok, ce l'abbiamo fatta farlo cadere, bene Ok, ora lo possiamo colpire tranquillamente Grazie Andiamo col laboratorio, dai Scendiamo, scendiamo Superiamo questo primo laser Possiamo andare, il primo superato Il secondo basta andare da qua e si supera Adesso bisogna stare attenti Qua bisogna procedere molto con calma Ok, subito fermare, come se siete suono, subito fermarsi Bene Vediamo il suono di Metal Gear Ok Calma, calma Ci siamo Ok Vediamo come fare qua E io passo dall'altra parte Scambio i giocatori E lo inganno Eh, è qua Ciao Ciao Si può fare lo stesso trucchetto? Faccio farlo al computer Beh, qui se non volete fare questo punto Lo fate fare al computer sostanzialmente Eh, qua bisogna stare attenti Ok, subito bisogna fermarsi Subito bisogna fermarsi Come si sente il suono di Metal Gear Scambio si è abbassato Ok Ci siamo? Si, si, ci siamo Ce l'abbiamo fatta A questo punto è un po' tosto Ma si può fare C'è il trucchetto, diciamo Ma si può, si può Ok, proseguiamo Leva Ecco, arrivano i nemici Una passeggiata, eh Mi sa proprio di no Eh, qua sono miliardi di nemici Diciamo che la spallata serve qui Però arrivano bestioni, eh Dai Mamma mia Eh, arrivano altri Non è finita qui Ecco, ecco tutti i bestioni Sì Eh, ora arrivano questi invece Eh, lo spacciano giù Che macello E ora Sì Sì, qua fa una specie di baguettino Che non subito acchiappa Però, insomma, poi si è riesciato ad avanzare Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, è arrivato il triangolo fino alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un super strike. E ancora? Ok. Ah, un altro bel mucchione. Ok. 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 Benissimo. Benissimo. Eh, qua serve la spalla, perché sono troppo. È una follia. Strike. Ok. 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 Un altro bestione. Ma la facciamo fuori subito. Ok. 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 Andiamo rapidi sulle scritte. Ok. 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 diagnose. Ok. Ok. questo è un ascensore livello completato e andiamo verso l'aeroporto ultimo e poi c'è il finale aeroporto più finale proseguiamo veloce dai un altro bel mucchione da spallata dai spallata necessario stiamo distruggendo pure l'aereo ora possiamo passare si preparano al decolo dobbiamo sbrigarci la musichetta fortissima fortissima via via ok ok dai 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 bestione e birrozza lascia a terra in sta birrozza seppur non gli serve si prosegue lenti ma si prosegue fagioli benissimo fagioli e fagioli doppia padella bam un padellata in testa non è male no non sono riuscito no 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 Beh proseguiamo... è lunga sta pista eh! stanno fuggendo dobbiamo fermare queste moto... benissimo! andiamo noi sulle moto livello completato e andiamo verso il finale e qua devo sempre stare attenti alle casse dovete stare molto sugli esterni da qualche... cambiamo... ecco ho cambiato mezzo sbagliato bene 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 stiamo avvicinando parecchio qui sulla destra è abbastanza tranquillo si 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 basta stare sui esterni da qualche tranquillo poi fatta bella rissa ma che si vissi Grazie a tutti. Oh. Ah questo è un boss. Ok lanciamogli queste molle. Perfetto. No ma mi ha beccato. Ok. Ottimo. ma raffica proprio e ora non so se di colpire robot ah ecco possiamo fare l'idea ok ok un po' di danno le stiamo facendo vediamo queste molle ok eh bisogna approfittare no l'attività ora ora dai no a metà dai ok più di metà bene 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 dai che qua ci fa ma le molle non ce l'ho più no meglio curarsi non si sa mai ok distrutto sfondato a posto benissimo è finita K2 i fagioli del mondo sono salvi ah non possiamo far male col telecomando no devo tornare verso l'isola eh si se no non prende il telecomando abbiamo un problema l'altro scotto deve essersi danneggiato il serbato che stiamo perdendo quota fantastico e bisogna alleggerire il scarico ci pensa Terence butta tutto giù come sto andando così abbastanza deve alleggerire molto di più ah posto allora alleggeriamo alleggeriamo butta tutto tutti quattro tutti quanti sono azzatta la cosa col paracadute ecco la funzione vedete che siamo abbastanza vicini eh abbiamo abbastanza carburante per atterrare lo scopriremo no no hai visto i gabbiani volano alti alti nel cielo quel giorno che bloccano le ali in volo e cominciano a scendere vuole planare sostanzialmente il vento nei correnti distinto sì come no ecco stiamo planando praticamente eh ma noi sbattiamo per terra eh oh oh vediamo se sono ancora vivi un gatto e c'è anche bud è terence e adesso che facciamo nuotiamo ma si va ma sai dove sono? ehm no finisce proprio qui e finisce così finisce quest'altra avventura quest'altra avventura con Slaps and Beans Bud Spencer e Terence Hill è stata stupenda ma ovviamente non finisce proprio qui nel senso che uscirà a breve Slaps and Beans 2 e sicuramente lo faremo insieme fatemi sapere se vi è piaciuto per essere pensato di questo gioco in pixel art è stata una bella avventura super divertente stile sala giochi con tanti minigiochi è veramente bello musichette fantastiche tutto bello super divertimento gioco da fare e rifare spero vi sia piaciuto ciao e ci vediamo alla prossima avventura ciao